Ciao a tutti e benvenuti al mio canale di cartomodellismo dinamico, io sono Issam e nell'ultimo anno l'unica cosa che non poteva mancarmi mai nel mio zaino quando esco a volare è lo Speedy B2 che ho sempre conservato gelosamente nella sua scatola pronto ad essere utilizzato eventualmente se dovessi cambiare impostazioni e vi assicuro che capita molto spesso. Bene oggi è tempo di dire addio all'adapter 2 della Speedy B perché è arrivato lo Speedy B3 che oltre a fare tutto quello che faceva lo Speedy B2 ma in maniera più comoda e anche più ergonomica adesso andremo a vedere perché e come. Comunque oltre a questo aggiunge altre funzionalità che sono molto utili che aggiungono valore a questo aggeggino piccolissimo da 30 dollari o circa 25 euro che sono dei soldi che comunque avrei speso solamente per qualche funzionalità di questo che non è neanche correlata al modellismo perché sì è un tester per batteria infatti come potete notare qua mi fa vedere il voltaggio della batteria ma come potete notare qua abbiamo una porta USB A. A cosa serve questa porta? Beh serve a caricare il cellulare utilizzando qualsiasi batteria lipo con connettore XT60 o anche con un adattatore da 1 a 6 celle e non la carica normalmente ma carica la batteria con la ricarica rapida Quick Charge che arriva addirittura a 30 watt infatti ve lo segnala qui sopra con due fulmini e normalmente per assicurarmi e farvi vedere che Quick Charge mi connetto tramite un aggeggino. che mi fa vedere quello che sta consumando il cellulare a quale voltaggio quale amperaggio di questo non ne abbiamo assolutamente bisogno perché collegandoci tramite l'applicazione al nuovo adapter 3 della speedy B cliccando questo bottone qua del fulmine possiamo connetterci alla parte che si occupa della carica dove ci fa vedere il voltaggio al quale sta caricando il dispositivo quanti ampere sta caricando i watt totali possiamo decidere quando lo speedy B3 dovrà smettere di prelevare corrente dalla batteria perché si scarica e la cosa bella che riconosce in automatico il numero di celle quindi dobbiamo decidere solamente quant'è il voltaggio minimo per cella in questo caso è messo a 3,7 ma se volessi per esempio scaricare la batteria a 3,8 che è il voltaggio di storage basta mettere così e quindi quando ho una batteria che carica non la voglio utilizzare perché sta piovendo basta collegarla che mi carica il cellulare e mi scarica la batteria al voltaggio di storage e poi smette infatti come potete notare in questo momento sta suonando dicendo che la batteria si è scaricata e la devo rimuovere mettere un'altra magari per scaricare ma adesso la mettiamo così sta zitta un pochino la rimettiamo a 3,7 volt possiamo anche decidere se vedere su questo schermo il voltaggio della batteria totale ovviamente perché non ha il connettore bilanciatore per vedere le celle ognuna quanto è carica ecco possiamo vedere il vattaggio se vogliamo se decidiamo con il quale sta caricando il cellulare in questo momento questo segnettino rosso vi in significa che abbiamo messo un voltaggio abbiamo collegato la batteria ecco se ci dà fastidio questa scritta possiamo toglierla nasconderla possiamo anche decidere di risparmiare energia anche se in realtà non c'è tanto risparmio quindi nascondere tutto tutta la schermata e vedere solamente il tipo di carica quindi questi due fulmini eventualmente se stiamo caricando quick charge o normale ecco una cosa molto utile che hanno aggiunto eventualmente se nel tempo si dovesse scalibrare il voltaggio che ci mostra l'adattatore non sia realistico non è il voltaggio che misuriamo per esempio con un tester della batteria ecco possiamo calibrarlo tramite questa funzione bene adesso facciamo un piccolo test perché sono molto curioso visto che qua abbiamo un voltaggio molto alto che viene ridotto a 9 volt ecco vorrei provare un voltaggio di 7 qualcosa volt di una batteria 2s cosa riesce a fare questo carica batteria riuscirà a fare quick charge anche con un diciamo alzare il voltaggio della batteria si sembra di sì andiamo a vedere connetterci un'altra volta a vedere a quanto sta caricando infatti come pensavo non riesce ad alzare il voltaggio ma solamente ad abbassarlo quindi da 7,6 volt lo riduce a 6,9 volt circa che è comunque considerato è considerato quick charge perciò carica la batteria velocemente ma meno velocemente rispetto alla 4s o 3s eventualmente ricolleghiamo un'altra volta per verificare a quanto sta caricando con una 4s vedete ha circa 9 quindi abbassa il voltaggio ma non lo alza e andiamo a vedere però se colleghiamo una batteria 1s perché abbiamo la possibilità di collegare una batteria 1s che cosa fa riesce a caricare la batteria non lo so vediamo sono curioso no come potete notare non la carica quindi la carica del cellulare funziona solamente da 2s fino a 6s ma sicuramente più voltaggio abbiamo ovvero più numero di celle più efficace la ricarica rapida con il nuovo speedy b3 arriva un cavetto questa volta molto diverso dal cavetto originale del speedy b2 perché quello originale è micro usb da una parte micro usb dall'altra parte e se avete bisogno di collegare questo cavetto on flight controller con connettore usb dovete avere un adattatore assieme infatti io ho sempre il mio cavetto fantastico portachiave che funziona anche da adattatore universale da usb a usb c a usb a micro usb e anche a connettore lightning che se vi interessa ve lo lascio nella descrizione del video e adesso questo adattatore non mi servirà più perché adesso lo speedy b3 ha due connettori uno micro usb e uno usb c e il cavetto da una parte usb c e dall'altra parte micro usb quando abbiamo bisogno di collegarlo a un flight controller usb c lo colleghiamo di qua invece quando abbiamo bisogno di collegarlo a un micro usb colleghiamo questa parte di qua e quest'altra parte al flight controller ovviamente siccome questo cavetto si utilizza anche per alimentare la fc con un massimo di 700 milliampere a 5 volte in realtà se non abbiamo un cavetto usb usb c o micro usb a seconda del nostro cellulare possiamo comunque utilizzare questo adattatore per caricare il nostro cellulare utilizzando il suo cavetto però non abbiamo la possibilità di caricarlo quick charge ma solamente a 5 volt carica lenta da 700 milliampere ora e per ultima cosa e prometto di passare subito alle funzioni molto interessanti per quanto riguarda il nostro hobby ecco misuriamo quant'è la corrente massima supportata da questo aggeggino soprattutto sono interessato a capire se ha diciamo un sensore una protezione per il cortocircuito quindi adesso pom ecco come potete notare rifacciamolo aumento il consumo come potete notare qui la lucina diventa verde poi rossa e si spegne rifacciamo un'altra volta a un certo punto diventa verde e poi si spegne buono quindi è super sicuro per i nostri cellulari bene oltre allo schermo la doppia alimentazione con 1s fino a 6s e la comodità e la versatilità del nuovo cavo nuovo connettore micro usb usb c cosa abbiamo di particolare così interessante il fatto che questo adattatore a differenza dell'adattatore versione 2 ha anche il bluetooth e si connette per tutto via bluetooth tranne per due cose perché questo adattatore ha la possibilità anche di flashare firmware sia il firmware per esempio di betaflight di emuflight ma anche di inav ma ha la possibilità di cambiare le impostazioni su tutte e tre questi firmware ma è capace anche di fare il pass through quindi passare attraverso il flight controller andare direttamente negli esc e cambiare non solamente le impostazioni del firmware degli esc ma addirittura flashare un nuovo firmware se ne abbiamo bisogno ma i samlos pdb 2 già era capace di fare questo perché è questione di applicazione non solo se non vuoi neanche acquistare a 25 30 euro questo aggeggio puoi collegare direttamente un cavetto otg dal tuo cellulare direttamente nel flight controller e fare tutto ciò in realtà questo non è vero perché non tutti i cellulari purtroppo incluso anche il mio riesce a fare questa cosa qui e non solo ecco a me è capitato di bruciare il connettore del cellulare connettendo la batteria non so come mai ma è capitato non solo a me connettere gli usb al flight controller senza problemi connetto la batteria al drone e puff qua non funziona più la ricarica del cellulare ecco questa è la prima cosa e non è detto che possa capitare però comunque non tutti i telefoni android hanno la possibilità di collegarsi via usb e non è sicuro al 100% non solo ovviamente se avete un telefono cellulare ios ecco ios non vi permette assolutamente di fare questa cosa quindi dovete per forza prendere questo ma la differenza fondamentale è che lo speedy b2 dovevate collegarvi sempre via wifi e quindi ogni volta che dovete collegarvi dovete andare a cercare il wifi connettervi vi connettete con l'applicazione dopodiché fate le impostazioni atterrate un'altra volta per cambiare le impostazioni dovete ricollegarvi via wifi insomma questo si è comodo sicuro però un pochino macchinoso invece via bluetooth è molto più rapido vi faccio vedere subito adesso connetto il flight controller e clicco qua su bluetooth lo trova vedete immediatamente li dico connetti e pum ed è connesso quindi possiamo usare bluetooth per cambiare tutte le impostazioni che vogliamo molto rapidamente con connessione molto rapida però se vogliamo flashare un firmware ecco dobbiamo collegarci via wifi e questo collegamento via wifi avviene anche via bluetooth ovvero adesso esco da qui vado a cliccare il pannello delle funzioni come potete notare abbiamo un sacco di funzioni dove per esempio possiamo flashare un firmware di betaflight emuflight o anche inav e configurare bls addirittura aggiornare il firmware di alcune telecamere immagino che siano delle run cam non solo possiamo ripristinare alla configurazione di fabbrica alcuni droni che sono memorizzati qua si chiama one touch configurator ci sono alcuni di atone e tanti icine all'interno non tanti tre icine ecco ci sono le configurazioni ma la cosa molto interessante che vi faccio subito vedere è che si questa applicazione è fantastica e gratuita per tutti però se siete dei vip e volete pagare un pochino di più potete memorizzare la vostra configurazione e poi ripristinare la vostra o condividerla anche con gli altri adesso clicco qua e mi dicono che questa è una funzione per vip eventualmente se voglio pagare vediamo quanto costa su google play un mese 99 centesimi 12 mesi 9 euro 99 non è neanche tanto specialmente che possiamo condividere le nostre impostazioni è una funzione che sicuramente penserei io stesso di acquistare così da condividere con voi le impostazioni direttamente dei modelli che modifico e configuro per voi ecco tutte queste funzioni si possono configurare giustamente con il bluetooth che è molto rapido a connettersi ma non è molto rapido a trasferire i dati e perciò questo adattatore è stato provvisto di un modulo wifi per fare il download direttamente del black box che è direttamente sul flight controller che in questo momento gli dico di disconnettersi dal bluetooth e connettersi via wifi vedete che non mi chiede neanche la password perché ha fatto tutta la configurazione direttamente tramite bluetooth come fanno la maggior parte dei dispositivi nuovi posso fare il download questi black box infatti sono memorizzati direttamente sul mio flight controller e posso fare il download direttamente la cosa bella anche per chi ne capisce ovviamente è l'analizzatore del black box quindi oltre a scaricare il file possiamo anche analizzarlo ecco purtroppo non abbiamo il waterfall per analizzare le vibrazioni ancora ma ci sarà sicuramente nel futuro se vogliamo flashare un firmware di beta flight emuflight o i nav o flashare un firmware di bl e li ecco siamo costretti a collegarlo via wifi ma come ho fatto vedere prima la connessione è davvero molto rapida automatica non vi accorgete neanche che via wifi praticamente fa tutto da solo sconnetto il wifi dalla connessione attuale la connette al adattatore e fa tutto da solo praticamente non dovete neanche aprire e cercare la connessione wifi mi fa sinceramente sorridere aver visto la recensione di joshua bardo del quale ha parlato bene e ha detto anche che è stato pagato e vedere la mia recensione nella quale parlo ancora meglio ma senza essere pagato comunque è tutta farina del mio sacco perché mi piace davvero tanto e ho utilizzato la versione 2 con piacere davvero tanto come sicuramente sarà per la versione 3 e come al solito vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video se avete domande o suggerimenti lasciateli giù nello spazio commenti nel frattempo vi saluto e ciao alla prossima